E del piacere, del piacere, i giorni del piacere, i giorni del piacere. Un piccolissimo resto della Tokyo Kefu. L'albero giallo davanti al Bunkai Kan diventa ogni giorno più bello. Siamo con Federico Longhi al trucco, mancano cinque minuti all'inizio dello spettacolo e lui ci dirà la parola giapponese del giorno. Che parola ci vuole dire? Ciotto-ciotto. Cosa vuol dire? Piano-piano. Oh, meraviglioso, grazie. Il maestro Noseda, Alado Ataneli, Marcello Alvarez, un pool di star per Tosca. Norma Fantini, splendida Tosca. Ciao a tutti. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. E sugli applausi finali si chiude questa puntata di Pillole di Passione dedicata a Tosca. A presto, Nora Giunti, Teatro Reggio, Cochie. Grazie a tutti.